Buongiorno a tutti, mi chiamo Agostina, sono della provincia di Sondrio e lavoro come educatrice presso un RSA che ha una settantina di residenti. Come tutte le RSA anche noi abbiamo dovuto affrontare l'emergenza del Covid-19 con la chiusura totale della struttura nella prima settimana di marzo. Ci sono stati poi tutti gli aspetti tecnici e organizzativi per poter poi eventualmente dover supplire ad un eventuale contagio che poi per fortuna non è mai avvenuto e supplire anche invece a quegli aspetti relazionali dovuti al fatto che in struttura non entravano più i familiari, non entravano più i volontari e nessun altro se non noi operatori che siamo diventati il ponte fra l'esterno e l'interno. Quindi le giornate sono diventate sempre uguali, gli incontri fra gli anziani si sono ridotti di molto anche perché abbiamo dovuto mantenere le distanze eccetera e le domande erano sempre uguali. Quando arriverà mia figlia a farmi visita? Con delle risposte che non potevano soddisfare sicuramente l'esigenza del residente in quel momento. È stata molto importante l'informazione, il riuscire a dire veramente a coloro che erano anche in grado di capire che cosa stesse succedendo, l'informazione di quello che stava succedendo all'esterno e soprattutto la possibilità attraverso la tecnologia di mantenere il contatto con i familiari, quindi con le videochiamate, le telefonate anche in viva voce, le fotografie, i video eccetera, che sono stati il mezzo per mantenere una certa serenità per l'utente. Oggi le RSA sono ancora chiuse e noi siamo ancora in emergenza, per cui si continua in questo modo. Che cosa chiede l'anziano? L'anziano chiede di non essere un numero, perché di numeri ne sono stati dati veramente tanti, di non essere dimenticati, perché anche loro hanno bisogno delle relazioni con l'esterno e chiedono soprattutto di poter tornare a fare una vita come quella che facevano prima, potendosi confrontare anche con persone diverse, quindi il familiare, il volontario, il sacerdote, il ministro della comunione e soprattutto testimoniano una grande pazienza che è stata un'arma preziosa che non ci deve mai abbandonare e soprattutto la speranza di far sì che tutto andrà bene, perché deve arrivare il giorno in cui tutti ci riabbraceremo e faremo una grande festa.